Allora, mi raccomando, lo scrivo perchè ormai è tutto sporco qua, questa è l'accelerazione che è questa curva gialla, questa è l'integrale di questo, cioè questo è v0, scusatemi, v dell'istante t uguale a quello iniziale più l'integrale di quello, d'accordo? Quindi, se v0 fosse positivo, cosa vuol dire? Siccome la caduta è verso il basso, se la velocità iniziale è verso il basso, quindi se v0 è positivo, allora il grafico sarebbe questo. Inizialmente la velocità è positiva e vale v0 e a partire da questo valore lui arriva a un certo assintoto. Ha un valore assintotico, che so, questa qua. Quindi lui da questo valore sale in maniera che non sto più a disegnare, vi lascio a voi. Questo è il grafico quando parte da zero. Se invece la particella era lanciata verso l'alto e avesse avuto una v0 negativa, allora il grafico sarebbe stato questo. Se questo è la direzione della velocità positiva, quindi questo è verso il basso, velocità, questo qua, e questo invece è verso l'alto, velocità negativa. Lui partiva da un valore negativo, da un v0, che era minore da zero, e da qui, se questo è il valore assintotico, lui ci arriva così. Pensateci, quindi questa è la formula generale, questa qua è la formula quando la velocità iniziale è zero. Siamo d'accordo? Alcuni commenti che anticipano la fisica. Supponiamo che non ci fosse fluido. Il B, quel parametro B è quello che descrive la presenza del fluido. Poi ci sono fluidi più o meno viscosi, più o meno facili da attraversare. Per esempio l'aria è un fluido, l'olio d'oliva è un fluido. Quale dei due secondo voi è più difficile da attraversare? Ovviamente l'olio. Quindi immaginate di togliere l'aria del tutto. Non c'è aria, non c'è fluido. Quindi immaginate una caduta di un grave in assenza di fluido. Quindi quando questo parametro B vale zero, cosa succede a tau? Tau cos'è? Tau è M diviso B. Quando voi diminuite il B, rendete il fluido sempre meno viscoso, cosa succede a tau? diventa sempre più grande e per l'assenza totale del fluido il tau è infinito. Cosa vuol dire? Che questa funzione esponenziale non muore affatto. Cioè se B è zero, questo vale zero, E alla zero vale uno e questo è G. E sarebbe un'accelerazione costante. Quindi invece di avere un'accelerazione che muore esponenzialmente, in assenza di fluido l'accelerazione rimane costante. Per un fluido poco viscoso l'accelerazione muore esponenzialmente ma molto gradualmente. Per un fluido molto viscoso muore così. Quando non c'è fluido l'accelerazione non cambia affatto ed è G. E quale sarebbe l'andamento della velocità se non ci fosse un fluido? Non sarebbe questa funzione qua. Quale sarebbe? Allora facciamo di nuovo il caso che parte da fermo. Quindi questo è solo per essere avvertiti. Quindi io voglio fare il grafico quando la velocità iniziale è zero. Quando la funzione quindi parte da zero, la velocità, la velocità positiva vuol dire che scende il corpo. Dovete abituarvi già adesso a guardare i grafici cinematici in questo modo. Cosa vuol dire la velocità positiva? Vuol dire che al passare inesorabile del tempo, il tempo aumenta. Cos'è una velocità? L'ho detto prima, una velocità in ultima analisi è un delta x su un delta t. Quindi se questo è positivo vuol dire che gli aumenti inesorabili del tempo corrispondono ad un aumento di x. Quindi una velocità positiva vuol dire che la x diventa più grande. Ma x per noi è verso il basso. Quindi velocità positiva è verso il basso. Abituatevi già adesso a guardare così le cose. Quindi in presenza di fluido cosa succede? Che il grafico arriva assintaticamente a questo valore qua che è mg diviso v. Arriva assintaticamente a uno meno l'esponenziale. E uno potrebbe costruirlo bene facendo le tacche caratteristiche. Quindi io potrei obbligarvi all'orale di non fare una curva del cazzo, ma di farne uno per bene. E come lo costruisce? Fai vari tau e fa 36% oppure uno meno 36% che è 64%. Cioè lo costruisce, no? Uno su e per uno su e per uno su e. Lo costruisce. E fa una bella figura orale. Se uno lo fa, ma il professore più o meno va... Non si capisce se va a un assituto o no. No? Mi raccomando, vedete gli orali con l'intenzione di far capire che avrebbero l'idea chiaro. Se il fluido è sempre meno viscoso, cosa succede? Guardate, a parità di grave, anzi, siccome uno studente mi ha appena fatto la domanda, ma se io faccio cadere, non so, un topolino o un pianoforte da un edificio, cosa succede? A parità di fluido, raggiungeranno velocità limiti diversi, perché dipende dalla massa. Però la massa, devo ancora spiegarlo, però intuitivamente, se io prendo un topolino e provo ad accelerarlo, però, sarà facile, cercando un piano forte a cura e cerco di... E' molto più difficile, quindi la cura, non perché è pesante, eh, non confondere massa con peso. Voi potete determinare la massa di un corpo rispetto a un'altra in assenza di forza peso, in assenza di gravità. Prendete in mano e fate così. Se è facile farlo accelerare, avrà una massa piccola. Se è molto più difficile farlo accelerare, ha una massa maggiore. Quindi, quello che appare qui, è la massa in quel senso. A parità di pianeta, terra, a parità di fluido, aria, la velocità limite dipende dalla massa. Chi ha una massa maggiore, avrà un ascento più alto. D'accordo? Quindi, che sia chiaro, non sto dicendo che tutti i corpi hanno la stessa accelerazione. Tutti i corpi avranno la stessa accelerazione, quindi se parto da fermo, avranno la stessa velocità quando tampono il suolo. Quando? Quando non c'è il fluido. O quando riesco a diminuire gli effetti del fluido. Questo è il classico esperimento che faccio ogni anno, forse l'avrete anche visto nelle scuole. Io non ho costose pompe a vuoto da poter rimuovere l'aria da questa stanza, anche perché poi morireste tutti. Ma potrei costruire con molti soldi una specie di campana di vetro, attaccarci a una costosa pompa, accenderlo e fare un vuoto, almeno parziale, dentro la campana. E poi con un meccanismo di rilascio far cadere, che so, una piuma e un sasso. E far vedere che partendo entrambi da fermi, avendo la stessa distanza da attraversare, arriverebbero simultaneamente, che io traduco nel dire che arrivano con la stessa velocità. E' il famoso esperimento di Galileo. Ma in assenza di tanti soldi così, io cosa faccio? Questo corrisponde alla mia piuma. La penna corrisponde ad un oggetto, è evidente che in assenza di tentativi di controllare l'effetto dell'aria, è evidente che la penna è la prima, mannaggia, ma come posso dimostrare che è l'aria che è responsabile? Già lo potete vedere perché la piuma svolazza, ma c'è un altro modo. Metto la piuma sopra il quaderno, sono caduti assieme. L'avete visto? Avviene molto rapidamente, senza tardi soldi, sono caduti assieme. Questa è una dimostrazione che il quaderno ha fatto strada, ha aperto l'aria, e quindi il foglietto di carta è caduto senza essere in qualunque modo rallentato all'aria. L'avete visto? Fatto la casa, d'accordo? Senza costose pompe a vuoto, eccetera. Oppure, 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 è evidente che l'aria è lo stesso oggetto, ha la stessa massa, non è che è cambiata la massa, se io faccio così con il foglio, no? Cioè la stessa massa, eppure con ridotto o aumentata la sua densità, cioè occupa meno volume, riesco a rendere l'effetto dell'aria praticamente trascurabile. Cioè, dentro la precisione con cui riusciamo a guardare, senza avere costosi sistemi di fotocellule o cellule che misurano o telecamere ad altra velocità, voi potrete dire che arrivano ragionevolmente nello stesso istante, a differenza di quando il foglio era aperto, quindi uno vede subito che è l'effetto dell'aria. E la cosa che mi stupisce è che gli esseri umani abbiano piegato secoli per accorgersi di questo. Cioè, pensateci, come faceva Aristotele, una delle persone più intelligenti del mondo, che abbiano mai vissute, a non vedere questo semplice fatto? Io sono molto stupito, cioè non riesco a capire questo fatto. Come mai, si vede che in antica Grecia, forse andavano giù tutti in tunica, in sandali, non facevano molto freddo neanche l'inverno, quindi forse Aristotele non ha mai attraversato un lago ghiacciato? Perché se l'avesse fatto avrebbe scoperto la legge di inercia molto prima, no? Cioè, è veramente interessante come le persone non siano riuscite a vedere cose che per noi sono semplici, perché noi viviamo in un mondo di automobili, a moto, treni, aerei, quindi molti concetti di fisica, voi riuscite a capirle subito, la gente prima della diffusione di massa degli automobili, figuriamoci dagli aerei, molta esperienza di esperimenti di fisica, non ce l'avevano, l'esperienza di fisica. Questo qua, della carta arrotolata, non è possibile che nessuno avesse notato la legge? Comunque, è andata così, ok? Quindi, se io ho un B piccolo, facciamolo così, se ho un B grande, quello faremo di nuovo esercizio, io sto facendo un discorso qualitativo per il momento, se ho un B grande, cosa succede? Intanto, il limite scende, per esempio, se io raddoppio la B, siccome la B è il denominatore, se io raddoppio la B, la velocità limite si porta qua, quindi l'assintoto nuovo è questo, ok? Ma il tau com'è? Il tau era M su B, quindi se io ho B2 uguale a 2 volte B1, qual'è il legame tra T2 e tau, tau1 e tau2? Siccome tau è uguale a M diviso B1 e questo è uguale a M diviso B2, ma B2 è 2 volte B1, vedete che tau2 è uguale a metà di tau1, giusto? Se io raddoppio la B, la tau diminuisce di metà. Quindi, se questa è la tau, facciamo la curva, io adesso disegno la tau della curva con questo limite qua, supponiamo che questa sia la tau, tac, tau1, tau1, questi sono tau1, quindi dopo tau1 lui deve arrivare a 1-36, quindi 1-036 che cos'è? è 0-64% del valore finale, quindi questo è il valore finale, 50% è qua, 60-70-80-90 sarà circa qui, ok? Dopo un altro tau lui deve arrivare al 64% di quello che è per arrivare in cima, quindi sarà circa qui. Dopo un altro tau sarà circa qui, quindi in rosso facciamo la curva con B1, adesso faccio la curva con B2, quindi B2 è 2 volte B1, ok? quindi vuol dire che tau2 è metà di tau1, quindi quello che è un tau qui è già 2 volte tau2, tau1 è questo, e questo è 3 tau2, ok? perché tau2 è metà di tau1, vi vedete? vi seguite? quindi in blu lui arriverà qua, poi arriverà qua, poi arriverà qua, poi arriverà qua, ah ho sbagliato, qua giù, bravi, sentivo un borbottino? quindi lui arriverà qua, siccome il valore finale è questo, deve arrivare a 50, sarà circa qua, poi devo arrivare circa qua, e devo arrivare circa qua, quindi è così, ok? quindi la velocità limite è dimezzata, no ma ho fatto il disegno sbagliato, no, non è quello che volevo fare, perché io volevo fare la B1, quindi ho visto l'errore e la rifaccio, eravamo entrambi sbagliati, stavo sbagliando ma voi mi avete fatto, ho sbagliato 2 cose, se voi li avete segnato su 1, shhh, coraggio, coraggio, silenzio, se questo è il valore di velocità limite, ovviamente, o era giusto? era giusto? era giusto? ok? una cosa del genere, era giusto, quindi questa è la curva 2 e questa è la curva 1, ok? è giusto, era giusto, vedi? ho un mg diviso b2 e un mg diviso b1, b2 è uguale a 2 volte b1, quindi è metà, e la tau, questo era giusto, d'accordo? cosa succede se io diminuisco la B? allora facciamo un po' un conto, qual è la formula? eccola qua, anzi faccio questa domanda qua, fatevi pensare, se io vi chiedo qual è la derivata di questa, cioè l'accelerazione è questa, silenzio per cortesia, siamo stanchi, però questo non vuol dire di gettare la spugna, vuol dire che dobbiamo reagire, mettete un respiro profondo, mettete le dita in una presa elettrica, datevi un pizzicotto, ma reagite, non fate conversazione perché poi l'etropia aumenta, ragazzi? noi abbiamo ottenuto questo, integrando questo, nell'ipotesi che la velocità iniziale fosse zero, fate l'opposto per verificare, quando fate gli integrali, siccome gli studenti non amano molto fare gli integrali, tendono a sbagliare, vi esorto, ottenuto la risposta, fate la verifica, e qual è la verifica? di derivare questo è meglio che questa sia la risposta, ovviamente per v limite abbiamo mg diviso v, d'accordo? quindi se io vi chiedo qual è l'accelerazione iniziale, con una velocità così, la vedete da qua, l'accelerazione iniziale con q uguale a zero vale g, d'accordo? quindi in realtà questo grafico qua, il modo migliore per disegnarlo è questo, tirate una retta che avrà pendenza g, attenzione, sembra, questo vuole essere una retta, vedete che c'è una, questa è la retta v di t uguale g t, quella è la retta v uguale g t, dovete convincervi che la, la funzione, questa qua, ha questo aspetto, lui inizialmente sale con pendenza g, perché inizialmente qual è l'accelerazione di questo? è g, qual è l'accelerazione? è il valore di questo, qual è l'accelerazione iniziale? è il valore di questo quando t uguale a zero, e quando t uguale a zero l'accelerazione è g, quindi inizialmente la funzione rosso, che è questa qua, deve cercare di sicuramente questa retta, poi comincia a scostarsi sempre più fino ad arrivare, per l'appunto, al suo centro, questo è il modo di disegnarlo, si traccia la pendenza iniziale, che è la retta v uguale g t, quindi questa qua è la legge della caduta dei gravi, se volete, di Galileo, cioè quello in assenza di fluido, in assenza di fluido, l'accelerazione è g, quindi se l'accelerazione è g, se a è uguale a g, la velocità in un istante t è uguale alla velocità iniziale, che in questo caso vale zero, più l'integrale di questo cazzo di costante, e questo cos'è? E' semplicemente g t, quindi g per t è l'andamento della velocità in assenza di fluido, la velocità crescerebbe linearmente nel tempo, aumenterebbe sempre più, quindi se voi siete in assenza di fluido, alzate e cadete, acquisterete sempre più velocità, in presenza di un fluido viscoso, con proprietà che dovrò poi dire più avanti, la velocità inizialmente cresce come direbbe Galileo, ma poi si discossa sempre di più fino ad arrivare a un valore mg diviso b, se prendete due corpi che hanno la diversa massa, diversa massa, in assenza di fluido seguono esattamente la stessa retta, la velocità non dipende dalla massa, ma in presenza di un fluido dipende dalla massa, perché la velocità limite è mg diviso b, come mi chiedeva il vostro collega, a parità di g e a parità di b, corpi che hanno massi diversi avranno velocità e limiti diversi, ok? Mi raccomando, da questa velocità, tiratevi fuori qual è la posizione, come si fa? Fatelo, 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 se volete fate anche la versione che parte da zero, quindi se questo è l'asse dell'X, metto la X positiva a base basso e questo è l'origine, fate l'esercizio di calcolare la posizione, sapendo che inizialmente si trova qua, fermo, che velocità avrà, quale posizione avrà in un generico istante t? Fatelo, calcolatelo, lo chiederò un orale o uno scritto, dovete fare questo integrale, è semplice, va bene, facciamo questa legge oraria qua, come vedete ormai questa è fisica, sto anticipando un sacco di cose perché le cose che devo fare non sono banali, e prima li sentite meglio è, silenzio, shhh, basta, veramente. Grazie. e lentamente c'è il silenzio, sta per fare così, poi qualcuno ha voglia di girare e strozzarlo, applicare un momento attorcente al corpo. Facciamo un moto nel piano, quale piano da lavagna, scrivo la legge oraria, facciamo così, anzi vi do le accelerazioni, l'accelerazione nella direzione x sia 0 e l'accelerazione nella direzione y sia g, una costante, questo sia l'asse x, questo sia l'asse y, così vi abituo a disegnare in maniera strana, quindi supponete adesso che questo sia le accelerazioni, io vi do due pezzi di informazioni, vi do la posizione iniziale e la velocità iniziale, quindi vi dico che inizialmente la particella si trova qua, quindi inizialmente x di 0, cosa intendo per x di 0? intendo x, parentesi, più uguale a 0, lo scrivo più, magari questa è l'ultima volta, o una delle ultime volte, supponiamo che sia 0, che y sia 0, quindi la posizione iniziale sia 0, questa è la posizione iniziale si intende, velocità iniziale, quindi con la posizione iniziale, visto che la posizione è un vettore, devo dire x, la coordinata x alla coordinata y, la velocità iniziale è un vettore, devo dire la vx e la vy, quindi supponete che lui abbia velocità nella direzione x iniziale, cosa intendo questa notazione? intendo la componente x della velocità, quando t uguale a 0, immaginate che sia, facciamo così, una costante, e supponiamo che sia positivo, cosa vuol dire? positivo, che al passare del tempo la componente x aumenta, si sta spostando verso destra, la componente x sta andando di là, e la componente y della velocità sia, che so, 0, quindi inizialmente la particella è qua, e se io disegnassi una freccia a rappresentare il vettore velocità, come sarà? Il vettore velocità è, velocità iniziale è uguale a vx 0 nella direzione x e 0 nella direzione y, questo è il vettore iniziale, d'accordo? Quindi se io volessi disegnarlo magari con bel colore arancione, la freccia della velocità iniziale, e questo è una freccia che è in questa direzione, questa qua quindi rappresenta la velocità iniziale, ok? E' una freccia della direzione x, va bene? Quindi io vi do la posizione iniziale, vi do la velocità iniziale, e vi chiedo di dirmi cosa succede. Cosa succede a x in funzione del tempo? Cosa succede a y in funzione del tempo? E qual è l'aspetto della traiettoria? Ok, x in funzione del tempo è facile, perchè x nell'istante t è uguale a x iniziale, che in questo esercizio vale 0, anzi non mi piace questo x, faccio la traccia così, ok? In questo esercizio vale 0, perchè parte qua, più l'integrale di chi? Della velocità nella direzione x, pensata come funziona il tempo, più, più, sfogatevi 5 secondi in tempo di finire e cancellare, finito lo sfogo, la derivata, l'integrale della velocità, l'integrale della velocità della componente x nel tempo, dall'istante iniziale all'istante generico, qual'è la velocità nella direzione x? Guardate, in funzione del tempo, voi qua cosa vedete? Che l'accelerazione nella direzione x, della direzione x quant'è? Quindi ho saltato il passaggio, prima di poter fare questo, io devo sapere cos'è questo, no? Quindi in realtà io devo partire qua, devo partire dalla dalla coscienza dell'accelerazione, da questa qua, e quanto vale? Ho detto è 0, quindi la velocità nell'istante generico, perchè è quello che io devo mettere qui, l'integrando qui non è ancora noto finchè non integro, quello, no? Quindi la velocità nell'istante t è uguale della velocità iniziale, e questo esercizio è diverso da 0, ma è positivo, più l'integrale dell'accelerazione, ok? Ma l'accelerazione è una funzione 0, quindi io vi sto chiedendo qual'è l'area sotto la funzione nulla? area nulla, quindi questo qui, essendo questo 0, questo è banalmente la velocità iniziale, cioè la velocità in funzione del tempo non sta cambiando, se io facessi il grafico, in funzione del tempo, della velocità nella direzione x, è una funzione così, ah scusate ho prenduto un po' di co2, d'accordo? Quindi la velocità non sta cambiando più, a questo punto, questa è la velocità in funzione del tempo, metto questo qui e posso proseguire col calcolo, quindi ho x di t, che è uguale a questo, abbiamo detto che è uguale a 0 in questo esercizio, e questo come potete vedere l'abbiamo fatto nell'altro lavoro, e questo è molto semplice, no? molto semplice, quindi accelerazione x uguale a 0 implica che la velocità è semplicemente la velocità iniziale, non cambia, e questo implica che la posizione è questa, facciamo adesso la coordinata y, questo è come varia x in funzione del tempo, ok? Adesso facciamo la coordinata y, a 0, parto dall'accelerazione, e l'accelerazione è invece un valore, come l'ho chiamato? g, è g, quindi la velocità nell'istante t è uguale alla velocità iniziale, che ho detto che vale 0, quindi questo non c'è, più l'integrale di questa funzione qua, g, sto integrando la funzione che di fatto non dipende dal tempo, da 0 a t, è abbastanza evidente che questo è uguale a gt, ok? Quindi adesso la velocità iniziale del tempo è una funzione che cresce linearmente il tempo, avendo questo posso finalmente dire cos'è la y, è uguale alla y iniziale, che in questo esercizio vale 0, perché parte dall'origine, più l'integrale di questo, adesso vediamo se suona tra 10 minuti, come dovrebbe, e questo y di t è uguale a un mezzo g e quadro, perché è l'area di questo triangolo qui, t giù di t, e quindi è un mezzo base per l'altezza, quindi abbiamo questa situazione, cosa cancella? questo è meglio tenerlo, arrivo qua, vicini, più uno uno, vicini, vicini, vedete? Bene, cosa ho fatto? Ho considerato l'accelerazione x, l'ho integrato per avere la velocità x, e ho integrato la velocità per avere la variazione x, ho fatto la stessa cosa a coordinata y, ho l'accelerazione y e integro per avere la velocità, e integro la velocità per avere la posizione, quindi sono arrivato a concludere qual è la legge oraria della coordinata x e della coordinata y, però avendo scelto all'inizio dell'esercizio delle condizioni iniziali, e quali sono? Che partiva qua, quindi il vettore posizione è il vettore nullo, perchè inizialmente è lì, e la velocità è per di là, e nell'istante iniziale dov'è l'accelerazione? Se io vi chiedessi di disegnare qual'era la convenzione, il giallo era l'accelerazione, com'è l'accelerazione? L'accelerazione, eccola qua, questo è l'accelerazione, se io vi chiedessi di disegnare la freccia accelerazione, come la disegnate? Nell'istante iniziale è una freccia che per di qua, perché puramente è nella direzione y, ok? Che traiettoria seguo la particella? Questa è una cosa che faremo almeno un'altra volta, la particella. Cancello un po'. Guardate, cos'è la traiettoria? Io voglio la curva che la particella segue. Silenzio, se no do per scontato che l'avete fatto. So che alcuni di voi l'hanno fatto, almeno un liceo scientifico decente dovrebbe farlo. Prendo la prima. Inverto. Quindi dalla prima scrivo la t come x diviso vx0. Questo è interessante, perché mi dice che io potrei sapere quanto tempo è trascorso misurando la coordinata x. Quindi la misura della coordinata x è una specie di orologio. So quanto tempo è trascorso non appena misuro la coordinata x della particella, perché quando x è uguale a 0 è a t uguale a 0. Al passare del tempo la x cresce linearmente. Quindi, se misuro che la coordinata x è raddoppiata, so che è passato un intervallo di durata doppia. No? Vi seguite? Misurare x corrisponde a sapere quanto tempo è trascorso. E quello che è scritto è questa equazione qua. Prendo questa e la metto qui. qui. Quindi ho y che è funzione sì del tempo, ma il tempo è funzione di x. Quindi è questo, un mezzo g, t al quadrato, ma t è questo, quindi ho x quadro. Meglio fare così, perché intendo di scrivere in questo modo. Un mezzo g diviso vx0 al quadrato x al quadrato. Cioè questo è del tipo ax quadro. Cioè la y, che a ben guardare la sto pensando con la funzione di x. è una parabola. È una parabola. E se a è maggiore di 0, come lo è? Perché cos'è a? A è uguale a un mezzo g, vx0 al quadrato. A è maggiore di 0, perché g è maggiore di 0 e vx0 al quadrato è maggiore di 0. quindi a è maggiore di 0. Quindi come si apre questa parabola? Si apre in che modo? Si apre così. Adesso, guardate com'è fatta la a. A parità di g, guardate, queste parabole qua, in cosa differiscono? Guardate l'espressione della a, è un mezzo g diviso vx0 al quadrato. Quindi, dipendono, differiscono dal valore di vx0, ok? Quello che ha vx0 maggiore è quello che incurva meno. D'accordo? Quando vx0 fosse 0, guardate qua, vx0 uguale a 0 vorrebbe dire che a è infinito. E a infinito è una parabola del genere dove la particella va giù dritto. C'è una parabola che è, questo è quando, questo qui è quando a vale 0. quando va a è qualcosa, a è ancora più grande, a è ancora più grande, a è infinito. Questo è a uguale a 0, questo è a1, a2 e avete quindi che a2 è maggiore di a1, ok? Che è maggiore di 0. D'accordo? Quindi avere velocità nulla vuol dire che va giù dritto. Se voi non lanciate con velocità orizzontale, voi lanciate giù dritto. E' una parabola con una a infinita. Se invece mandate con una velocità pazzesca, molto grande, con una velocità orizzontale molto grande, la a diventa molto piccola. Infatti se la a fosse 0, la particella andrebbe così, cioè non cadrebbe, andrebbe dritta. Allora, siamo d'accordo? Questa è cinematica, ovviamente alludea fisica, no? Alludea fisica. Quindi, se voi volete sparare un proiettile a un castello nemico, a un nemico, avrete mai sentito parlare alzo 0, eh? Quindi voi avete il canone e se il proiettile è molto veloce, praticamente voi potete sparare con una parabola che è molto, molto poco cadente. Per il proiettile va quasi all'orizzontale. Per andare rigorosamente all'orizzontale dovrebbe dare la velocità infinita, no? Se questo fosse infinito, allora questo sarebbe 0 e 0 vorrebbe dire che se ne va così. Chiaro? Vedete? Anzi, mi fa vedere in mente un filmato su Youtube che ho visto qualche anno fa. Dovete sapere, beh, non lo sapete, eravate piccoli. Quando ci fu la seconda guerra in Iraq, quello che buttarono giù Sainz, c'erano molte polemiche, no? Allora i francesi erano contrari alla guerra e gli americani si sono un po' risentiti perché nella prima guerra del golfo erano tutti favorevoli, fu una guerra, come si dice? Coalizione? E invece nella seconda guerra molti paesi dissero no. Un po' ipocriti. Cosa è successo? Gli americani si sono risentiti. Alcuni americani patriotti invece di chiamarle le patatine, che noi le chiamiamo french fries, le fritte francese, li chiamavano freedom fries, cioè tolsero la parola french. E circolarono su Youtube parecchi filmati che sputtanavano poi i francesi e ce n'è uno molto carino, dove era un filmato tecnico di un nuovo lanciarazzi della tecnologia francese. Allora vedete, quello che tiene il bazooka, che era così, è il suo aiutante. Allora vedete in lontananza il bersaglio di un carro armato, in primo piano questi due soldati francesi, questo lancia missile high tech, è finito l'ora. E a un certo momento il filmato scorre e dura 45 secondi, vedete il cursore del tempo che scorre e cosa succede? Cosa succede? A verso il quarantesimo secondo finalmente l'assistente da il colpo sull'elmetto, e quello tira il gretto. Sono stati fortunati, perché se esplodeva erano morti, cioè ha fatto 2 metri. Cioè evidentemente l'uscita con cui l'uscito era così basso che ha fatto una parabola così. Ok? Vabbè, io ho riso come un mato perché ce l'avevo quel francese. a quel giorno. Chihe, questo l'ombra è un punto che sia piaccionato che ha fatto la esperienza, e delle cose che in ogni modo non trassi uno,